Buongiorno Buongiorno, ben svegliati, buon mercoledì 4 aprile, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa, anche questa mattina faremo un po' il riepilogo delle principali notizie che trovate già sui quotidiani in edicola. Partiamo in questa prima parte dalle prime pagine, iniziando dai quotidiani abruzzesi, ovviamente con le quattro edizioni del centro che vediamo, questa è quella di Pescara, con cui apriamo. L'apertura è dedicata alla Tari, altri 10 giorni per pagare si legge Pescara, c'è chi non ha ancora i bollettini, il comune rassicura. Non ci saranno multe fino al prossimo 10 aprile. Sceniamo in pagina perché la fotonotizia purtroppo è dedicata ad una tragedia. A Francavilla, ingegnere di 25 anni, muore dentro casa. Mattia Iodice, 25 anni di Francavilla, morto ieri in casa per un infarto, era laureato in ingegneria informatica. Nelle cronache, scuole disagi a Pescara, docenti di ruolo beffati, devono rifare il concorso. Oltre 100 docenti pescaresi di ruolo dovranno tornare precari e rifare il concorso per ottenere il posto fisso vicino casa. Turisti tra i resti dell'hotel, in vacanza a Rigopiano, il sindaco dice provo ribrezzo. A Città Sant'Angelo, ride dei bevi vandali nel chiostro del comune. E poi in alto, vediamo sotto la testata, l'estate salva, la sabbia anti-erosione per 5 comuni della costa. E poi bandita alla gara, sponsor privati per finanziare eventi e reperti abruzzesi. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Centro. Vediamo anche un richiamo alle notizie di sport. Ronaldo Super, un marziano stand della Juve. Ieri sera l'andata dei quarti di finale di Champions League con il Real Madrid. Che ha battuto nettamente la Juventus 3 a 0. e stasera la Roma sfida Messi al Camp Nou di Barcellona. Cambiamo non quotidiano ma edizione. Andiamo sull'edizione aquilana del centro. Tasse sarà mobilitazione di massa. L'Aquila oggi in riunione con Lolli, parlamentari e i sindaci sulle strategie da adottare. La fotonotizia riguarda la processione di Paganica, folla di fedeli al rito della Madonna da Pari. Una folla di fedeli ha accompagnato la processione tradizionale appuntamento che conclude a Paganica i festeggiamenti e riti pasquali. Nelle cronache, reggbisti sventano il furto ad Avezzano e placcano una ladra. Due reggbisti dell'Avezzano hanno sventato un furto. E questo è uno dei reggbisti che è stato protagonista di questo bel gesto. Lamin Traore all'Aquila, maestre nei guai. Leggiamo perché bimbi maltrattati all'asilo chieste tre condanne. E poi la città di Sulmona, Piange Verrocchi, il papà dei sulmonesi era primario in ospedale. Cambiamo edizione, andiamo sull'edizione della provincia di Teramo. Rocchetti, candidato dei 5 Stelle e l'apertura del centro che dunque apre con la politica. Elezione a Teramo, il movimento punta su un assicuratore di 53 anni come sindaco. A dire la verità, una notizia di cui già avevamo sentito nei giorni scorsi. La fotonotizia tamponata da un ubriaco perde una mano. Grave incidente a Roseto. Leggiamo perché è bastato un attimo il rientro a casa. Dopo la GD Piasquetta si è trasformato in un incubo per la famiglia di Roseto. Sulla loro auto è piombata, quella guidata da un giovane risultato poi ubriaco e nel drammatico impatto la mamma ha perso una mano. E queste sono le conseguenze dell'incidente. Nelle cronache, Sant'Omero fanno il colpo al self ma perdono il bottino. Due banditi incappucciati hanno prima svaliggiato la colonina del self-service ma sono stati messi in fuga dai vigilanti. Se dunque hanno riportato a casa nulla o quasi. L'ospedale Mazzini a Teramo era inoperabile, salvata con una nuova tecnica. Poi un pastore di Campri bastonata al rivale in amore, condannato a due anni. Chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella di Chieti. Truffa della pensione, condannato. Chieti è in Argentina ma finge di vivere in Italia per l'assegno sociale. Pena di due anni e deve restituire 57 mila euro. Nelle cronache, Comune di Chieti, Conti in Rosso, il Consiglio deciderà sull'inchiesta. Arriva in Consiglio Comunale domani la proposta di una commissione d'inchiesta per approfondire i perché del buco da 12,7 milioni di euro. Sempre a Chieti ma per la cronaca un chilo di droga in borsa, arrestato e già in libertà. E a Lanciano sconto del 25% sull'Atari ai locali che al loro interno non abbiano delle slot machine. Cambiamo quotidiano adesso, andiamo sul messaggero, la cui apertura è dedicata ad un fatto di cronaca che riguarda il comune di Pescara. Ladri indisturbati in comune, questo si legge. Pescara, ride nel palazzo degli uffici tecnici durante il ponte di Pasqua, colpo, fotocopia a gennaio e scoppia la polemica sull'adeguatezza dei sistemi di allarme e di difesa passiva. Evidentemente non proprio il massimo a quanto sembra, visto che non è la prima volta che succede questa cosa. Qui c'è una foto del ride dei ladri in comune, ma poi lo vedremo meglio andando all'interno del quotidiano. In Regione Forza Italia contro il Presidente Senatore, ovviamente si parla di Luciano D'Alfonso, il nodo rimane quello del doppio incarico. Vediamo sotto la testata a Teramo, giro di vite sulla sicurezza, 40 telecamere antifurbetti. E poi calcio, timballo pescarese per Allegri e Pilon, prova il nuovo gruppo, tutto alla vigilia della partita con il Real. Evidentemente il timballo pescarese non ha portato fortuna all'allenatore della Juventus, Invece in casa Pescara l'allenatore farà meno di Brugman, ma recupera Bovo e Falco. Di spalla, autismo, sette giorni di eventi contro il tabù. Scendiamo in pagina, a centro pagina, c'è purtroppo la fotonotizia che riguarda una brutta abitudine, ovvero quella del turismo macabro, pasquetta tra le macerie di Rigopiano, è successo purtroppo anche da noi, rabbia dei parenti delle vittime, indagano i carabinieri, addirittura barbecue, partitelle, schiamazzi, allegria collettiva, persino selfie tra le macerie del centro benessere. Diventano un caso, le gite nel luogo della tragedia. Altra notizia, con l'autobus porta la moglie a prostituirsi. Un uomo di guardia grele, arrestato nel Lazio, controllava e incassava i soldi dei clienti. A Roseto, giovane madre, perde una mano in uno scontro, un incidente che abbiamo visto prima. E domani, l'Aquila 6 aprile, ci avviciniamo purtroppo alla triste ricorrenza del sisma che ha colpito l'Aquila. E non solo, il sisma è il domani, visione a confronto, l'Aquila 6 aprile. Ci sono le parole dell'ex sindaco Cialente e dell'attuale sindaco Biondi, che poi leggeremo insieme. La città, andiamo in provincia di Teramo. Ovviamente l'apertura è sull'incidente di Roseto, mutilata da un guidatore ubriaco. Famiglia di balneatori rosetani, travolta dall'auto di un giovane che rientrava dalla Pasquetta. In alto, Sant'Omero, colpo a metà alla stazione self-service. Annotare due tronconi invece per il processo Gommeur. A centropagina, il pastore geloso, condannato per le bastonate all'amante della fidanzata. E poi siamo in basso a Giulianova, va per la politica. Costantini apre le porte alla Cameri. Il centrodestra punta anche alla regione di spalla. Siamo a Teramo, ci proiettiamo alle elezioni comunali. Il Movimento 5 Stelle sabato presenta Cristiano Rocchetti. Per il centrodestra tramonta l'Idea Gatti. Stasera la quadra su Morra in basso. Teramo Calcio, il portiere Ricci si presenta, ricordando il gol che gli segnò qualche anno Orsono, il capitano proprio del Teramo, Ivan Speranza. Queste le prime pagine dei quotidiani regionali abruzzesi. Andiamo adesso a vedere un po' di prime pagine nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera perché oggi cominciano le consultazioni al Quirinale per cercare di trovare la quadra sul nuovo governo. Il governo, scontro sulla mossa di Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, noi con Lega o Partito Democratico, ma senza Berlusconi e Renzi. Salvini risponde no ai veti. Idem, irricevibile il contratto dei 5 Stelle, oggi il via alle consultazioni proprio al Quirinale. Ovviamente ci sono tante analisi sulla giornata che si apre oggi, anche se quella di domani vedrà i partiti principali salire proprio al Quirinale da Mattarella. Come vedete, Gigino, il rito, la cravatta, la foto di Pasqua di Gian Antonio Stella e poi la ricchezza a due velocità di Fubini. Di spalla il caso di DJ Fabo per il governo, l'aiuto al suicidio è un reato a centropagina. Blitz sui migranti, Parigi dispiaciuta. Chiariremo tutti, ovviamente si torna sulla questione di Bardonecchia, sul raid della polizia francese all'interno della stazione ferroviaria di Bardonecchia, territorio italiano. La foto notizia, California, evacuati in 1700 diversi feriti. L'obiettivo era il fidanzato, donna spara e poi si uccide, ore di terrore, vedete, non in un luogo qualsiasi ma nella sede di YouTube in California. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo su Repubblica, anche qui ovviamente si parla l'apertura dedicata alla politica, il governo, la mossa di Di Maio, sia Salvini ma senza Berlusconi. L'ira del Cavaliere, resto in campo, PD, porte chiuse a 5 Stelle e Lega. Oggi il via alle consultazioni. Anche in questo caso ci sono le varie analisi, il punto di Stefano Folli senza formule praticabili e poi l'analisi di Claudio Tito, il confine dello 0,9%. La foto dei disperati in Messico, la lunga marcia contro il muro e i soldati usa questa immagine emblematica. In basso, spari nella sede di YouTube, evacuati gli uffici, molti feriti, la polizia morta, l'assalitrice. In basso, la polemica, il caso DJ Fabbo, Gentiloni alla consulta, arresti il reato di istigazione al suicidio, per cui è finito sotto processo anche Marco Cappato. La stampa cambia l'apertura. Mediaset Sky, lo stop di Tim, c'è troppa concentrazione di qualche giorno fa, l'accordo tra i due colossi della televisione, ma c'è lo stop di Telecom, intervista con l'AD Genish, le autorità indagino sul patto tra le TV. Il realistico che Elliot prenda il controllo delle società, la rete, nessun governo, sarà contro lo scorporo. Via le consultazioni, lo troviamo la notizia di spalla, Di Maio alla PDL e alla Lega, contratto per il governo. Sono a centro pagina, in Finlandia, l'isola vietata agli uomini, apre il resort per le donne, libere dall'attenzione sessuale e non si entra proprio così. Ci vuole anche un colloquio per l'ammissione. Questa Cristina Roth, l'imprenditrice statunitense che ha comprato quest'isola in Finlandia, Beata Lei, che ha la disponibilità per costruire un resort dedicato solamente alle donne, per cui va anche fatto questo colloquio chiarificatore. Il fatto quotidiano, la politica di Maio cerca di stanare Salvini e il PD. Chi ci sta? Ma niente Berlusconi. Al Colle si parte alle 10.30 con i presidenti di Senato e Camera. I gruppi maggiori sono convocati, come dicevamo prima, per domani. Il capo leghista chiude ai Dem, che però in questo momento stanno fermi. a centropagina, stangata away sui terremotati, addirittura ridateci 75 milioni di tasse rivolte all'Aquila, 350 imprenditori e le cartelle esattoriali per delle vecchie esenzioni. Davvero incredibile. Nomi nello scandalo di Brescia, la rete di Bazzoli, Ubi e Banca e Banca Italia, il potere degli onnipotenti. Quindi andiamo avanti. Il manifesto, foto e titolo abbastanza emblematico, perché insomma ieri è stata anche l'apertura del grande sciopero delle ferrovie francesi contro la riforma dell'Eliseo, proprio sui trasporti su ferro in Francia. Marte di Nero per l'Eliseo, sciopero dei treni che blocca la Francia contro la riforma delle ferrovie nazionali. Saranno tre mesi di protesta dura e tra governo e sindacati scatta la guerra dell'opinione pubblica. In piazza anche i lavoratori di Air France, Netturbini e studenti e dunque Macron deraglia. Questo è il titolo del manifesto. Saliamo in alto perché ci sono le questioni invece della politica di casa nostra, di Maio, con il PD o con la Lega, ma senza Forza Italia. Da oggi le consultazioni al Quirinale. E poi l'Assemblea dei Cinque Stelle, c'è un solo candidato. Il nostro messaggero edizione, ovviamente questa è la prima pagina nazionale, Lega, Forza Italia, strappo impossibile. L'intervista al Presidente del Senato, Alberti Casellati. Lo stallo sarebbe una sconfitta per tutti. Alvia le consultazioni al Colle, Dictat di Di Maio, ossia il Carroccio OPD. No a Berlusconi e Salvini risponde no ai veti. In alto l'andata dei quarti, ovviamente siamo allo sport. Ronaldo doppietta e rovesciata su per la Juve sinchina a Real Madrid 0-3. Al Camp Nou, Roma, la notte dell'impossibile con il Barcellona del genio Messi. A centro pagina, Erdogan e Putin stretta di mano sulla Siria. Oggi l'incontro tra i due capi di Stato e il Presidente Rouhani, ovviamente i capi di Stato di Turchia e Russia, insieme al Presidente Siriano Rouhani. Pensioni, l'uscita dieci anni prima, ecco le categorie. Il 18 aprile scatta la chiamata per l'ape volontaria e per il senza lavoro entra in vigore anche la rita. Roma, in basso, Roma giallo sulla fine del seminarista, un giovane legionario di Cristo trovato morto in convento. Dall'altra parte, questioni di politica internazionale, Netanyahu impanne via i migranti. Il Premier israeliano rompe l'accordo con l'UNHCR. Andiamo avanti con il tempo, aspettiamo che, ecco qua. La prima pagina è un mare di danni, l'inchiesta acqua e malapolitica regionale divorano le spiagge. Nel Lazio devastazione per decine di milioni, in serio pericolo il business estivo. E poi di spalla Di Maio apre a Lega e PD bene tutti, tranne Forza Italia. Per la politica. A centro pagina, Dell'Utri denuncia a sei giudici per il cancro esposto dell'ex senatore gravemente malato. Ora il CSM valuti il loro comportamento superficiale. E poi per lo sport, stasera la Roma gioca col Barcellona al Camp Nou, i quarti di Champions League. Libero, Ideona di Franceschini. Sì, famolo strano, il governo ha mucchiata. Nel PD cresce il fronte di quelli che si offrono ai 5 Stelle o che sperano che Mattarella li obblighi alla grande coalizione. Movimento 5 Stelle riapre i due forni, esecutivo con i Dem, con la Legas ma senza Silvio. Di spalla il fondo di Feltri, il grande politologo. Se l'Italia avesse ascoltato Sartori oggi non sarebbe in questi guai. E poi, avviso ai querelanti e satira, Di Maio risponde alle critiche, ciascuno abbiamo il suo modo da esprimerci. Ovviamente un po' prendendo in giro le presunte difficoltà dialettiche del leader del Movimento 5 Stelle. Ovviamente pezzo sarcastico di Renato Farina. E poi, la sinistra morente sconfessa l'eutanasia sul caso DJ Fabbo. Il governo si schiera l'aiuto al suicidio, resti un reato. La verità, il piano di Renzi per risorgere fregando i voti a Forza Italia. Il bullo ai suoi, me ne frego del governo, lavoro per il 2019. Il progetto mollare il Partito Socialista Europeo, scardinare il PD e entrare o nel Partito Popolare Europeo o in Ammarche. Ritentando l'OPA sugli elettori moderati. La foto, si vede molto bene, Salvini con i Rom violenti. Viva la ruspa proprio di Salvini. In Francia, Macron blocca i disabili diretti all'URD, causa scioperi, via libera solo all'alta velocità. Il treno dei pellegrini non passa, deportati sugli autobus. L'avvenire, risposte al paese. L'auspicio di Mattarella, oggi le consultazioni sui vitalizi di Maio insiste. Via all'unanimità. La foto notizia, in Cina la Chiesa vuole soltanto vivere il Vangelo. E poi il caso, aiuto al suicidio, resti un reato. Il governo scende in campo, l'avvocatura alla consulta sulla vicenda proprio di DJ Fabo. Andiamo avanti, chiudendo con il sole 24 ore. Eurostat, nei conti pubblici, i costi dei salvataggi bancari. Oggi dall'Istat il quadro definitivo su disavanzo, debito e crescita 2017. E poi, le politiche fiscali, una notizia della flat tax, di cui tanto si è parlato in campagna elettorale, al 15% già attiva per 665 mila partite IVA. Come vedete, la flat tax al 15% è già una realtà per tantissime partite IVA. Consultazioni per la politica, Movimento 5 Stelle apre a governo, con PD o Lega, ma non Forza Italia. Salvini, no Abbeti. Caos in Francia, sfida a Macron per lo sciopero a sostegno dei ferrovieri. Vedete, uno dei manifestanti con la maschera proprio di Macron. Il debutto di Spotify in borsa, Spotify vale 29,5 miliardi di dollari. Il titolo supera la tempesta sull'i-tech in borsa e debutta proprio nella borsa londinese a 165,9,26%. Adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani sportivi, partendo con la Gazzetta dello Sport, il cui titolo è emblematico, lo vedete alle mie spalle. CR Wow, quarti di Champions, Juve battuta 3-0 dal Real e da un marziano che vedete in foto, standing ovation per Ronaldo che con una rovesciata pazzesca ribalta la signora, lui si inchina e ringrazia lo stadium. Troppi errori bianconeri, espulso di bala. Nell'altro quarto di finale Montella, il Siviglia, superato 2-1 in casa dal Bayern Monaco, ma davvero fantastica l'acrobazia che al 64esimo ha permesso a Ronaldo di segnare un gol che probabilmente è già storia. L'analisi, il commento di Luigi Garlando, un angelo ovviamente riferito a Cristiano Ronaldo e gli umani. E stasera, come detto, c'è la Roma, oggi Messi, C6, Allison, la Roma-Barcellona nelle mani del Pelé, dei portieri, Nainggolan è in dubbio, Liverpool-City, duello tra macchine da gol, l'ultimo quarto di finale. Ma oggi è anche il giorno del derby, mamma che derby. San Siro, ore 18-30, finalmente una sfida di qualità che vale l'Europa. Round decisivo, incasso record, Gattuso avvisa rinnovo, tutti d'accordo si aspetta, l'aumento di capitale slitta al 13, spalletti o giocatori con il cuore nero-azzurro. Ma non ci sono solo i recuperi di oggi, sono stati anche i recuperi di ieri, della giornata che fu rinviata, lo ricorderete, lo scorso 4 marzo, proprio per la morte di Astori, super fiorentina, infatti vedete nel nome di Astori, colpaccio, Sampdoria. Il Corriere dello Sport, opera d'arte, Champions, rovesciata, capolavoro, anche qui da altra angolazione, di Ronaldo, il Real Strong, la Juve 03, lo stadion applaude, Buffon ne dice, CR7 come Pelé e come Maradona. In alto, mamma che derby, anche qui Gattuso carica e pizzica Bonucci, pensi a giocare, spalletti a muso duro, vincere vale tantissimo, ore 18.30, Milan-Inter, passaporto per l'Europa. E in basso a Napoli, Amsic vuole fare la storia, se gioca le ultime 8 partite, può superare un re come Giuliano. Tutto Sport, altra angolazione, ma sempre lo stesso gesto tecnico, altro pianeta, Juve rovesciata da CR7-03, andata dei quarti in Champions. Bianconeri spianati dal Real e soprattutto dalle magie di Ronaldo, confronto con il fenomeno portoghese, stato impietoso per Di Bala, espulso per doppia munizione, e ritorno al Bernabeu. Mercoledì prossimo, dall'altra parte, Toro Crotone, Mazzarri, fiducia agli Aic, ma Corri gli dice, perché oggi il Torino recupera proprio contro il Crotone, oggi il derby, Gigi Obrozovic all'ultimo atto, tensione Milan. E poi in basso, notizie con cui chiudiamo, giochi 2026, la verità sulla candidatura. Torino, Milano, ci fermiamo qui per questa prima parte, adesso le previsioni del meteo, la pubblicità, e poi torniamo insieme per entrare all'interno dei quotidiani di Casa Nostra, tra poco. Seconda parte di Mattino 6, ben ritrovati, siamo pronti per leggere all'interno i quotidiani di Casa Nostra, ripartiamo dal centro, questa notizia che riguarda soprattutto l'estate che è alle porte, cinque comuni si spartiscono i fondi, via gli appalti per le spiagge, ripascimento della costa, 180 mila euro a Silvi Pineto e Roseto, a Francavilla ne vanno 150 mila, 80 mila invece. A Casalbordino, a centropagina, altra buona notizia, Torino di Sangro si è ai lavori per salvare la costra dei Trabocchi, e questo che vedete è il tratto franato proprio con il sindaco di Torino di Sangro, Silvana Priori. In basso, fermate l'iter per il metanodotto, Snam, le parole del Movimento 5 Stelle, e parte la carovana antigasdotto attraverso quattro regioni, tra cui l'Abruzzo, l'evento finale sarà a Sulmona, e allora ci vediamo il servizio della nostra redazione. Vediamo. Parte la carovana Noab del Gas per contrastare il tentativo di fare dell'Abruzzo e dell'Adriatico un distretto minerario. Nell'iniziativa sono coinvolte quattro regioni, Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, con eventi che iniziano il 6 di aprile e per finire domenica 15 aprile. Due le iniziative che si terranno il 6 di aprile a Termoli e il 7 a Norcia, a sottolineare il collegamento e la solidarietà tra le lotte contro i progetti minerari. Un disegno che il Noab del Gas definisce folle, tenendo conto che l'Italia è uno dei paesi al mondo con maggiori rischi ambientali, da quello sismico a quello idrogeologico. Tre i percorsi ideati da fare sia in bicicletta che a piedi, che toccheranno i centri interessati da vari progetti estrattivi di trasporto e stoccaggio degli idrocarburi e convergeranno su Sulmona, dove il 15 aprile si terrà la festa finale di una carovana realizzata per preparare la manifestazione sempre a Sulmona, in programma sabato 21 aprile. C'è un progetto per far diventare un distretto minerario, non solo la nostra regione, ma anche quelle limitrofe, l'intera Italia la vogliono trasformare in un hub del gas, cioè in una piattaforma logistica per fare import e export di idrocarburi verso il nord Europa. A loro rimarrebbero i profitti, a noi tutti i rischi. Ecco, per dire no a un progetto folle, che pregiudicherebbe il futuro della nostra regione per decenni. E per quanto riguarda la centrale SNAM di Sulmona, Lega Ambiente WWF chiedono formalmente a tutti i parlamentari neoeletti in Abruzzo di sollecitare il rinvio della riunione istruttoria sulla centrale, convocata per domani 4 di aprile dal Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lega Ambiente WWF hanno dato mandato all'avvocato Francesco Paolo Febbo di predisporre un proprio ricorso al TAR contro il decreto autorizzativo della centrale e chiedono che la questione venga esaminata dal governo che verrà, il quale dovrà confrontarsi con le istituzioni locali a bocce ferme e non con un provvedimento portato avanti a dispetto di ogni logica. L'Abruzzo ha fatto delle scelte ben precise. Nel momento in cui ha cominciato a parlare di regione verde d'Europa, ha cominciato a parlare di un'economia diversa, di un'economia green, ha fatto delle scelte. Ci sono purtroppo delle sacche di resistenza legate all'economia antica del secolo scorso, ma quello che conta è che i cittadini devono decidere il proprio futuro. Entriamo all'interno delle città dei capoluoghi. Siamo a Pescara e abbiamo cambiato quotidiano, siamo sul messaggero. Raidi in comune, devastati gli uffici, porte sfondate, telefoni divelti, scelti, cassetti, armadi aperti su tutti i piani del Palazzo Exims. Polizia al lavoro. Era già successo a gennaio da verificare cosa sia stato preso, ma PC portatile e macchine fotografiche non sono stati toccati. Queste sono le foto. La polizia scientifica ha il lavoro proprio in comune per i sopralluoghi. Come vedete, porte sfondate, davvero tanti danni. Forse gli intrusi, leggiamo, miravano a rubare documenti o faldoni di qualche pratica, farmaci spariti da alcuni cassetti. Vedremo se poi sarà così, se le indagini porteranno realmente a questo. In basso, la curiosità, timballo pescarese per Allegri e Placido. Totò Martorella ha consegnato la grande teglia di sua mamma Lucia, l'allenatore della Juventus. Cambiamo pagina, ma rimaniamo a Pescara, perché McDonald prenuota il nuovo Guerino, l'insegna del Colosso degli Hamburger, pronta a svettare sull'immobile. Che il gruppo di Carlo sta ristrutturando, l'imprenditore si schermisce, devo completare i lavori entro il 20 giugno e ho il mio progetto da portare avanti. A centropagina, col center e cantiere in nero, la metà dei lavoratori occupati. Il clamoroso risultato dell'ispezione in due aziende, a Montesilvano e a Chieti. E poi questa notizia, perché la biblioteca Necco trova a casa Abussi 4.000 testi, un vasto materiale audiovisivo e persino la scrivania del giornalista napoletano lasciati in eredità al paese. Un rapporto speciale, iniziato con le ricerche sull'alpino eroe Siro Riccioni, consacrato nel 2014 dalla cittadinanza onoraria. Luigi Necco, scomparso poco meno di un mese fa e che ha lasciato tantissimi ricordi non solo in chi seguiva il calcio negli anni 80, per esempio, in novantesimo minuto, ma evidentemente ha avuto un rapporto speciale anche con la nostra regione. Scendiamo a centropagina, a Rigopiano, rabbia e denunce per la Pasquetta tra le macerie. L'area del resort presa d'assalto dai gitanti tra arrostate e partitelle a pallone. Criticati alcuni di noi che hanno provato a spiegare, dice il comitato vittime, il sindaco, io sono senza vigili. In basso, elezioni BCC, ecco i progetti di Borgia per la riconferma e poi purtroppo a Francavilla, la disgrazia, muore in casa 25 anni per un malore improvviso. Torniamo sul centro perché siamo a Pescara, ma cambiamo argomento. Tassa sui rifiuti, Tari, altri 10 giorni per evitare le multe. La prima rata è scaduta, ma c'è chi non ha ancora i bollettini per pagare. Il comune assicura tolleranza fino al 15 di aprile e qui, riassunta, c'è la guida per chi non ha ricevuto il bollettino del Tari. E poi per il condono c'è tempo invece fino al 15 maggio. Si possono sanare tutte le imposte locali e le multe non versate in 17 anni. Cancellate tutte le sanzioni. Andiamo avanti, siamo a pagina 17. La scuola, il caso, docenti di ruolo beffati, dobbiamo rifare il concorso. Più di 100 prof pescaresi dovranno tornare precari per riuscire a ottenere il posto fisso vicino a casa. Così sono solo umiliazioni e perdita di dignità, dicono le storie. Rapidissimamente Lidia Duttilo ho impiegato 30 anni per avere una cattedra ora voglio andare in pensione. La storia 2 Emanuele Fusilli ho fatto la domanda tra le lacrime e dovrò ricominciare da capo. Cambiamo pagina Denunciate le violenze e liberatevi dalle paure il 14 aprile il convegno dell'associazione Iside ci saranno la mamma di Jennifer il pensionato che uccise un ladro e il figlio dell'uomo ucciso a picconate in strada. Per la cronaca di Spallalite in famiglia arrestato un 35enne. Andiamo avanti. Viaggio nei quartieri sempre a Pescara buche, rifiuti e traffico SOS da via del circuito. Il comitato civico di Villa Fabio chiede l'intervento in comune riassunta nelle foto la situazione non proprio esaltante di via del circuito. Il progetto in basso un parco pubblico al posto dell'ex Draga la proprietà dell'area di via Valleroveto punta al trasferimento dei volumi in altra zona della città. A Pescara settimana di eventi per parlare di autismo si parte oggi al Petruzzi con un seminario in serata lo show del Comiconduccio domani un altro convegno con esperti le manifestazioni organizzate dal Rotary a centropagina tour dei ponti ciclo passeggiata di 16 chilometri domenica il tradizionale appuntamento di Pescara a Beci darà il via all'Olimpionico De Benedictis in basso Viale Primovere venerdì stop alle auto strada chiusa dalle 23 alle 5.30 del mattino per lavori e poi la testimone di Geova 6.000 persone al raduno pescarese portavoce della seconda confessione cristiana in Italia così aiutiamo la gente a vincere droga violenza e alcol a Montesilvano stazione lavori finiti la croce rossa cerca sede presto saranno montati anche gli ascensori che portano direttamente i binari ma sul futuro dell'associazione ancora dubbi Tauci è come se non esistessimo e poi l'ispezione lavoro nero nel call center messi in regola 23 operatori in basso abusi sessuali in ufficio sia al licenziamento l'ex dirigente del settore ingegneria territoriale di Donato perde anche il ricorso contro il comune a città Sant'Angelo nuovo ride dei baby vandali in comune ieri toccata ad una fioriera di cemento che adorna il chiostro l'ennesimo blitz messa a segno dallo scorso novembre andiamo avanti la tragedia a Francavilla ingegnere di 25 anni muore in casa la vittima è Mattia Iodice stroncato da un malone improvviso poco prima di pranzare con i genitori domani ci saranno i funerali di questo sfortunato ragazzo a Francavilla sempre costa fondi a Francavilla padovano grida vittoria salvi 600 metri della zona nord sempre a Francavilla in basso arriva la tassa di soggiorno domani in consiglio comunale l'approvazione del regolamento da 1 a 2 euro a seconda della struttura ricettiva ovviamente siamo al purtroppo ancora sulla vicenda Rigopiano il sindaco provo ribrezzo per i turisti del Macabro il sindaco lacchetta contro picnic e tour di Pasquetta tra le macerie di Rigopiano servono più controlli durante le festività e D'Angelo annuncia anche delle denunce lo sdegno di Gianluca Tanda facevano selfie e giocavano a pallone in basso assalto alle sorgenti del Pescara popoli centinaia di visitatori a Pasquetta tra letture e laboratori per i bambini andiamo avanti andiamo a Chieti probabilmente ci torneremo anche con il messaggero truffa delle pensioni anziano condannato ottantenne emigrato in Argentina finge di vivere in Italia per l'assegno sociale pena di due anni dovrà restituire 57 mila euro ancora cronaca rapina in casa del pensionato pena di quattro anni condannato il palo di una banda e il raggiro sventato dall'intervento di un vicino carabiniere in basso cronaca studentessa di 21 anni muore nello schianto università d'annunzio in lutto per la tragedia ad Altamura perché la ragazza era iscritta proprio a psicologia nell'università d'annunzio cambiamo pagina comune i conti in rosso buco da 12 milioni ovviamente sempre a Chieti il consiglio sull'inchiesta domani arriva in aula la proposta di istituire una commissione di indagine in caso di ok audizione dei vertici finanziari di amministrazione e di teate servizi i documenti i primi allarmi ignorati riportano addirittura all'anno 2006 questo almeno è quello che si evince cronaca l'inchiesta della polizia a Chieti un chilo di droga nella valigia arrestato è già libero la tragedia di Pasquetta d'Ortona città sotto shock per la morte di Andrea Verna autotrasportatore deceduto in moto niente funerale sarà cremato e il sindaco dice era un giovane d'oro scendiamo a centro pagina rifiuti pericolosi vicino al mare i carabinieri sequestrano l'area a Ortona proprietario invece è stato denunciato siamo a Teramo dramma a Rosetto travolta da un ubriaco perde una mano grave incidente in via Mezzopreti la donna in auto con marito e figli tamponata da un giovane che non si ferma allo stop il giovane è stato denunciato con l'accusa di guida in stato di ebrezza e lesioni gravissime ancora cronaca perdono il bottino dopo il colpo al SEF Santomero i due banditi hanno segnato segato la colonnina ma sono stati messi in fuga dai vigilantes per la politica i 5 stelle puntano su rocchetti elezioni comunali a Teramo il candidato sindaco è un assicuratore di 53 anni il candidato sindaco ovviamente è in movimento 5 stelle cronaca giudiziaria perché il giudice sdoppia il processo con Meur decisi due procedimenti diversi uno per l'evasione fiscale e l'altro per truffa ai danni dell'Atac e dell'Arpa due aziende di trasporti abruzzese e romana ancora cronaca ladri messi in fuga dal padrone di casa tre malviventi tentano il furto in pieno giorno a Scapriano ma l'uomo li scopre e li fa scappare in basso due anni per le bastonate al rivale in amore condannato un pastore l'uomo era accusato anche di stalking nei confronti dell'ex fidanzata ancora ad Atri il comune deve pagare l'indenità ai vigili sentenza del giudice del lavoro sulla maggiorazione oraria del lavoro svolto appunto di domenica in basso proteste per il degrado sotto il ponte di Cerrano siamo a Silvi e vedete ci sono state delle proteste proprio per il degrado in alcuni punti a ridosso della torre di Cerrano siamo all'Aquila tasse da restituire parte la mobilitazione di piazza oggi riunione in regione con Lolli i deputati Pezzopane e Deramo i sindaci del territorio del cratere e tutte le associazioni di categoria ovviamente nella protesta nel mirino Unione Europea e il governo in basso Confindustria ecco l'accordo segreto le carte della cena dell'ossobuco finite nel dossier anonimo costato il posto al direttore imperatore siamo sempre all'Aquila bimbi maltrattati maestre nei guai il PM chiede condanne per complessivi 10 anni a carico di 3 educatrici la difesa mistificazione della realtà come vediamo anche a Scanno tassa di soggiorno per i turisti si pagherà un euro a notte da luglio e invece a Sulmona è morto Verrocchi papà dei sulmonesi all'annunziata aveva diretto ostetricia fino al 2008 si era abbattuto per la nascita di un polo di senologia ad Avezzano ladra placata è proprio il caso di dire dai giocatori di rugby fugge dopo aver rubato generi alimentari nel supermercato in seguito è fermata da due dipendenti attretti dell'Avezzano ha preso proprio il supermercato meno indicato evidentemente scendiamo muore dopo due cadute indaga la procura Avezzano l'89enne era ospite in una struttura specializzata disposta all'autopsia e sono state acquisite le cartelle siamo qui allo sport e allora ripartiamo con il messaggero ritorniamo all'Aquila tasse anche qui leggiamo parte la mobilitazione contro l'ammazzata dell'Europa oggi il vertice nella sede della regione per definire le iniziative di protesta la deputata PD Pezzopane è un giorno decisivo per il territorio e poi lancia una stoccata al Meloni di spalla restauro di tre chiese ecco i fondi per roio in basso il caso maltrattamenti in asilo il PM dice le maestre sono da condannare il domani se aprile si avvicina sarà dopo domani il nono anniversario il domani è il vero interrogativo dell'Aquila le parole di Cialente ex sindaco la città è narcotizzata ferma e senza progetti il neo sindaco invece dice immagino un futuro tra bellezza e tecnologia ad Avezzano muore cadendo in una struttura sanitaria vittima anziana di 89 anni i familiari hanno presentato un articolato esposto alla procura il PM Savelli ha incaricato un medico legale di Pescara pochi giorni fa era stato dimesso dopo un ricovero notizia di cronaca a Sulmona banda di svaliggiatori depreda il supermercato e poi regvista dell'Avezzano placca uno scippatore a Sulmona pieno di turisti ma tanti i negozi chiusi e sempre ad Avezzano cascere rete solidale parte il progetto a Chieti in bus accompagna la moglie a prostituirsi arrestato un 36enne nei guai Sasha Melidei di Guardia Grele i fatti sono avvenuti alle porte di Roma portava la donna in strada controllava l'area e si faceva consegnare l'incasso le sentenze volevano derubare anziano 4 anni di carcere al palo condannato altra notizia un emigrato in Argentina residenza a Fasulla per avere la pensione IMS e poi in basso preso con oltre un chilo di droga nella valigia già libero di sballo per le feste siamo ad Ortona Andrea l'ultimo saluto è sui social ieri i parenti e amici sono stretti alla camera ardente al Bernabeo per l'addio al Centauro 39enne morto a Pasquetta nessun rito religioso su web i messaggi più toccanti e poi anche qui altre notizie riguardano per esempio Guglielmo Maio che pagherà il fisco il conto è di 1.300.000 euro Guglielmo Maio che vedete nella foto ex vicepresidente della Virtus Lanciano ad Ortona scoperti sulla costa rifiuti edili tra le rocce a vasto pupillo presidente della provincia i comuni sono alla resa dei conti a Teramo sicurezza 40 nuovi occhi contro le auto dei furbetti e telecamere OCR hanno un software di riconoscimento automatico della targa verificheranno copertura assicurativa revisione e se il veicolo è stato rubato ancora cronaca ubriaco c'entra una famiglia la mamma perde una mano ancora bastone rivale in amore pastore due anni in galera in basso area di crisi Teramana 18 milioni per 70 istanze a Giulianova Stolker quelle armi non sono mie presentato ieri mattina il ricorso al riesame per ottenere la libertà per il coltivatore dal cuore matto di Colleranesco il 70enne è accusato di aver perseguitato una 47enne romena non sa dire chi ha portato nella sua casa però quell'arsenale e poi altra notizia resta incastrato di notte lo salva un vigilante schianto nella notte senza che nessuno se ne fosse accorto solo un vigilante passando sulla bonifica del tronto si è accorto di quella Renault Clio finita nella scarpata a Giulianova sempre Mastromaura ecco i nuovi sfidanti Marco Di Carlo e Andrea Palandrani anche qui siamo arrivati allo sport allora visto che siamo in provincia di Teramo ricominciamo dalla provincia di Teramo con Teramo al voto andando sul quotidiano la città centrodestra ore decisive per il via a Morra se questa sera si troverà la quadra sulla coalizione di centrodestra l'ufficialità della candidatura potrebbe arrivare già sabato mattina e in basso invece Pomante un'assemblea civica chiede per unire i Teramani ma come vedete nell'altra pagina una doppia ci sono questioni che riguardano anche gli altri schieramenti andiamo nei 5 stelle i pentastellati rompono gli indugi su Rocchetti confermate le anticipazioni della città sabato la presentazione all'hotel Abruzzi in casa centrosinistra un'altra processione diretta verso l'Ateneo dopo aver già detto no ad Alfonso D'Amico riceve tre ex consiglieri del PD cronaca giudiziaria per i giudici è malato di mente per i medici no il cinquantenne che ha piccato il fuoco allo studio dell'avvocato non è stato ricoverato solamente un foglio di via gli è stato fatto il cinquantenne non sarebbe affetto da disturbi ma eccentrico esibizionista e consapevole e poi andiamo avanti il delfico cuore della matematica al 19 aprile in Aula Magna per l'alternanza scuola e lavoro andiamo avanti il carcere di Castrogno è persino peggiorato per i radicali il sovraffollamento è solo il primo dei problemi in crisi c'è il sistema lavoro studio e formazione come vedete nella foto Rita Bernardini sempre molto vicina alle questioni carcerarie in provincia pastore bastona l'amante della finanzata camplese geloso finisce a processo per stalking e lesioni gravi il giudice lo condanna a due anni andiamo avanti colpo a metà colpo a metà al self di Santomero i ladri perdono una parte del bottino durante la fuga dai carabinieri e poi la notizia ad Ancarano resta bloccato un'ora in macchina dopo l'incidente salvato da un vigilante in vibrata investimenti per 18 milioni nell'area di crisi sono 70 le aziende risultate idonee e finanziabili dalla graduatoria provvisoria della regione a Giulianova Costantini apre le porte alla Cameli il neoconsigliere centrodestra vicino alla sintesi per arrivare alla vittoria e poi l'incidente di Pasquetta madre perde la mano per colpa di un ubriaco trentenne a rientro dalla festa brucia lo stop travolge l'utilitaria di una famiglia di balneatori queste sono le foto e anche il giovane ubriaco svenuto per lo shock ripartiamo prima di arrivare alla conclusione ripartiamo dallo sport e dal pescare ovviamente tornando sul centro Pillon riparte al 4-3-3 ma Brugman rischia prime prove del nuovo allenatore il capitano è K.O. per un problema muscolare allora con Pillon potrebbe essere così la formazione Fiorilla in porta Fiamozzi coda Fornasier e Crescenzi Cullibali Brugman anche se non dovrebbe esserci e Balzania Capone Pettinari e Mancuso vedremo se sarà così in Serie B cambio in panchina Novellino esonerato in Irpigni arriva Foscarini e in basso i recuperi di Serie B di ieri di Carmine mette le ali al Perugia gli Umbri vincono a Vercelli e sono quarti pari che è una buona notizia tra Brescia e Dentella che rosicchiano sì ma solo un punto al Pescara guadagnano solo un punto sul Pescara Provercelli Perugia 0-2 0-0 come detto tra Brescia ed Entella sul messaggero vediamo anche qui in casa Pescara Pillon la scelta giusta per salvarsi l'ex capitano del Pescara Olivi venne dice la scelta fatta dalla società lavorato con il tecnico Veneto ad Ascoli un uomo di campo dice Olivi che lavora tantissimo ma si ferma Brugman recuperano però Bovo e Falco in vista di Palermo in basso in Serie D l'Aquila avanti per una questione d'orgoglio oggi c'è il campo basso mister Battistini vogliamo superare tutte le difficoltà rispondendo solo sul campo in Lega Pro Teramo col Renate la partita salvezza Matteo Ricci nuovo portiere Biancorosso Speranza mi ha ricordato che Lapadula e lui mi fecero gol quando militavo con la Pistoiese altre notizie in alto ripartiamo dall'alto Sharks piove sul bagnato ovviamente siamo in casa Roseto basket casa grande si è infortunato altre notizie Pineto oggi a Fabriano ultima chance per il playoff recupera anche il Pineto nelle marche il rugby l'Aquila falcidiata ma è tornato Cialente queste le altre notizie in basso Coppa il Real Giulianova col Pomezia tenta la Mission Impossible recuperare il 3 a 0 patito all'andata e altre notizie torniamo sul centro in casa Teramo Ricci scommette sul Teramo si salverà il portiere Toscano ingaggiato la scorsa settimana la mentalità vista a Gubi è quella giusta oggi ci sono i recuperi altre notizie serie di l'Aquila assalto alla zona playoff il Pineto in campo senza Pepe sostituito da Orlando Real Giulianova serve un'impresa deve battere l'unipo Pomezia con 4 reti di scarto per qualificarsi in basso basket a 2 Roseto tende la mano ai tifosi niente giornata bianco-azzurra chiudiamo con la città Ricci si presenta il nuovo portiere del Teramo quel gol di Speranza prime parole per il portiere nel 2015 subì la rete del suo capitano contento però dice che mi abbia segnato lui in basso il Pineto recupera la gara col Fabriano Cerreto in campo alle 15 dopo il successo sull'Agnonese bianco-azzurri nelle marche per il match non disputato lo scorso 4 marzo noi ci fermiamo qui mattino 6 torna domani puntuale alle ore 8 io vi ricordo l'appuntamento con il nostro telegiornale alle ore 14 con le notizie più importanti dall'Abruzzo è tutto buona giornata Grazie a tutti